La soddisfazione nostra è di stare sempre in campo e giocando in campo. Anche se i giocatori stanno servendo in Nazionale, però c'è sempre una gioia, sempre una soddisfazione di stare lì con la Nazionale. Rientrano come un vecchio tempo nostro, che tornavano un giorno prima per giocare contro il Milan, contro l'Inter e andavano sempre così forti. E' una partita che è importante come la del Torx Giro, però non è che decide di discutere, non è che decide in campionato.